Un cartellone fitto di eventi, installazione artistica, musica e teatro in uno dei siti più suggestivi della Calabria, il castello Normanno Svevo di Vibo Valencia. Tra le mura dell'imponente struttura che sovrasta la città dal 4 al 31 ottobre, i visitatori vengono accolti e accompagnati in un'insolita esperienza. Nel mese che accompagna a conclusione l'esposizione universale di Milano, nelle sale del Museo archeologico nazionale Vito Capialbi rivivono usi e tradizioni dell'antica Ipponion attraverso la rassegna L'Arte di Nutrire. A fare da sfondo agli eventi inclusi nella manifestazione la mostra curata dal responsabile del museo Fabrizio Sudano dal titolo Alimentazione e archeologia. Con soldi della Regione Calabria siamo riusciti ad allestire una mostra archeologica su tre sale del museo in tre sezioni diverse. Il tema importante, il filo rosso che le lega tutti è l'alimento. L'alimento dell'antichità trattato in tre diversi aspetti, da quello che si mangiava, come si produceva, come si raccoglieva, come si cacciava, a quello che si portava sulla tavola e a quello che si offriva alle divinità. Un percorso suggestivo che consente ai visitatori di ammirare preziosi reperti provenienti da diversi scavi effettuati nel Vibonese. Grandi frammenti, grandi pezzi provenienti proprio dagli scavi, soprattutto vibonesi, dalle stipuivotive di scrimbia e anche del cofano, ma anche di particolari frammenti che provengono da piccoli scavi urbani e interventi di emergenza che non erano stati ancora esposti. Grandi frammenti, grandi pezzi provenienti proprio dagli scavi urbani e interventi di emergenza che non erano stati ancora esposti. Grandi frammenti, grandi pezzi provenienti proprio dagli scavi urbani e interventi di emergenza che non erano stati ancora esposti.